E qui assieme a noi abbiamo Federico Fioretto che è il fondatore e l'ideatore responsabile principale del progetto Neutopia lanciato all'inizio del 2008 in occasione dell'anniversario della morte delle Mahatma Gandhi, autore del libro che lo state qui vedendo, non so se la regia, anche la slide è pronta, comunque abbiamo il libro sul tavolo, bravissimi ce l'hanno, dell'autore del libro Corresponsabilità e soprattutto lei è propenso alla diffusione della cultura della non violenza. Allora qui si innesca un pochino il principio della sostenibilità, ci può spiegare meglio perché la non violenza comunque può essere un precursore o comunque un buon inizio per una pace interiore o comunque una salute interiore. Assolutamente, ma perché fondamentalmente quello che noi chiamiamo non violenza va visto come una metodologia e quindi come un approccio al vivere e alla vita che è più adatto al sistema vivente che noi siamo, perché fin qui le colleghe hanno dimostrato che siamo sistemi viventi, estremamente raffinati, complessi, capaci di autoguarirsi e di affrontare anche delle situazioni complesse e viviamo in un sistema vivente del quale siamo parte. Allora possiamo affrontarlo con la violenza stando male, perché questo è quello che ci dimostrano anche i dati sulla salute dell'organizzazione internazionale, viviamo in una società molto malata, oppure possiamo affrontarlo in un altro modo, con altri metodi privi di violenza stando bene. Allora questa cultura che si è sviluppata un secolo fa, insomma con Gandhi, in realtà nel mondo moderno poi si è tradotta in quella che è la cultura della sostenibilità. Sostenibilità, che cosa significa? Credo che la regia possa anche mandare eventualmente un'immagine, è un punto di equilibrio nel quale trovano soddisfazione tre aspetti fondamentali del sistema nel quale noi viviamo, che sono quello sociale, cioè bene o male gli esseri umani sono felici, gratificati e si sentono bene, vivono in un ambiente che è rispettato, tutelato e non devastato, come invece abbiamo fatto negli ultimi secoli e anche l'economia, ma non quella di cui sentiamo parlare oggi dagli economisti, ma invece il benessere della casa, che è poi il significato vero, etimologico del termine, è rispettato. Quindi questo concetto di sostenibilità oggi è il concetto di salute nella società. La cosa interessante è quindi che qui si vede un passaggio dall'individuo ai sistemi complessi, e allora oggi quello che poi è la grande innovazione che c'è stata nel progetto Neotopia è stata quella di partire da una questione sostanzialmente etica, che era quella di portare rimedio alla violenza strutturale del sistema, a sviluppare progetti estremamente concreti in collaborazione con aziende private, piuttosto che istituzioni, citavo prima strutture di cura, eccetera, andare a proporre dei progetti estremamente concreti per portare salute nelle organizzazioni complesse. Come si fa? È molto semplice, bisogna mettere al centro la persona umana e le altre figure viventi del sistema nel quale ci muoviamo. Tutto ciò che noi facciamo, che mette al centro la persona, che quindi ha ad oggetto i suoi bisogni fondamentali, che sono bisogni di sentirsi riconosciuta, di sentire che ha un senso il suo vivere, il suo lavorare, per esempio in un'azienda, diciamoci, porta a produrre dei risultati sani. Una cosa molto interessante che è emersa dagli studi fatti negli Stati Uniti alcuni anni fa è che il livello della retribuzione, cioè il denaro che si guadagna facendo un lavoro, non è minimamente una ragione per la quale le persone si fermano a lavorare in un determinato posto. Non è nelle prime 20 o 25, diciamo, ragioni per le quali le persone amano fare un determinato lavoro. Mentre invece sono importanti tutta una serie di altri elementi che hanno poi molto più a che fare con, diciamo, poi gli elementi di salute fisica, l'abbassamento del livello di stress o l'innalzamento del senso di gratificazione e di benessere. Naturalmente questo benessere noi lo coltiviamo anche attraverso delle misure di tipo ambientale, quindi riduzione dell'inquinamento, miglioramento dei luoghi di lavoro. Adesso non possiamo in questa sede andare a vedere tutti gli elementi di progetti di sostenibilità. Però oggi parlare di non violenza e parlare di metodi, parlare di metodi applicati e parlare di sostenibilità. La cosa interessante è che così come oggi ci sono molte persone che si interessano di salute e stanno scoprendo, come per esempio Anna Chiara Farnetti, di modi assolutamente creativi e geniali di produrre salute o di rimediare al malessere, così oggi si sta vedendo nel mondo che è molto più efficiente, molto più utile in tutti questi tre aspetti che abbiamo citato della sostenibilità, fare attività che mettono al centro lo stare bene, lo stare bene le persone, lo stare bene l'ambiente nel quale vivono, lo stare bene i soggetti che ci devono poi procurare le risorse per procurarci il necessario per vivere. Non il superfluo che non è un bisogno essenziale dell'essere umano e che fa sì che violiamo i diritti poi dell'ambiente o a volte delle persone con dei lavori sfruttanti, eccetera. Ma ciò che è necessario ce lo procura un'economia sana che è basata sulla felicità delle persone e che è basata sul rispetto dell'ambiente. Questo è il concetto di sostenibilità, questo è il concetto che oggi gli imprenditori più illuminati, più capaci, stanno mettendo in pratica e stanno scoprendo con molto interesse e con grande soddisfazione che tra l'altro rende molto di più. Questo ce lo dicono dei soggetti al di là di ogni sospetto come la Harvard Business School che ha scoperto e dimostrato scientificamente, che oggi bisogna che le cose siano dimostrate scientificamente anche se intuitivamente magari l'avevamo già capito da tempo, che rende infinitamente di più a un'azienda fare business in modo sostenibile e quindi sano e rispettoso di quei tre aspetti che non farlo nella logica dell'oppressione, nella logica dello sfruttamento, nella logica di spremere i limoni, sfruttare l'ambiente, produrre superfluo, eccetera. Quindi il bello dell'applicare nel mondo di oggi una bellissima filosofia di vita che è stata, vorrei dire, riscoperta poi da Gandhi, che lui stesso ha detto non è inventato niente di nuovo, è che è la chiave di volta per essere efficienti, sani e felici nel terzo millennio. Direi che non è poco. Benissimo. So che lei ha portato anche un'altra slide che mi piacerebbe commentare con lei è il modello dell'equivalenza. Di nuovo devo ringraziare Pat Patfort di aver sviluppato l'idea del modello di equivalenza. Questa è, diciamo, il contraltare di quella immagine che avevamo visto prima con le dinamiche dei conflitti. Questa ci dice che il modo per risolvere in modo soddisfacente una dinamica conflittuale è quello di andare nella profondità, andare a quelli che lei chiama i fondamenti. Se posso faccio un esempio, visto che abbiamo capito che sono le cose più gradite. Un esempio molto semplice. due colleghi di lavoro che arrivano ai coltelli, diciamo, metaforicamente ma non tanto, un uomo e una donna per discutere... Anche verbalmente, no? Molto spesso sul luogo di lavoro si danno delle risposte che pungono o tagliano come un coltello. Esatto, per il... dove archiviare un determinato faldone. Lui lo vuole assolutamente mettere in cima a uno scaffale, lei lo vuole mettere assolutamente su un ripiano più basso. Grandissima discussione, colleghi che alla fine rischiano di non parlarsi e vivono e lavorano tutti i giorni nello stesso ambiente. Se rimaniamo sulle ragioni, continuiamo a scontrarci tra l'ultimo ripiano e il ripiano intermedio. Se andiamo ai fondamenti, e questa è la risoluzione che è stata trovata, è un esempio concreto che si trova sempre nei casi di Pathford, nell'andare alla ricerca dei fondamenti, cioè perché lui lo voleva all'ultimo piano e perché lei lo voleva a un piano più basso. Allora, lui, l'uomo, lo voleva al piano più alto perché aveva un'esperienza precedente di un lavoro in un ambiente dove c'era molta trascuratezza, dove spesso la gente era abituata a appoggiare bicchieri, tazze, cose sporche o che sporcavano, che bagnavano, che rovinavano i documenti e quindi lo voleva mettere fuori portata in cima allo scaffale. La collega invece aveva avuto la brutta esperienza di cadere da una scala, una volta si era fatta molto male e aveva il terrore di dover prendere la scala per andare a recuperare il faldone. Si vergognava di ammettere questa sua paura, quindi non aveva espresso questa cosa, ma di fatto difendeva a spada tratta la cosa. Allora, il metodo dell'equivalenza, che cosa ci porta? Nella ricerca dei fondamenti a trovare quelle soluzioni che oggi sono molto di moda, le soluzioni win-win, dove vincono tutte e due le parti, cioè dove possiamo rispettare entrambe le domande di fondo di queste persone, perché lei non si oppone, la collega del caso, al fatto che il faldone venga messo in un posto protetto dalle tazze e dai bicchieri dei colleghi, ma al quale si può accedere senza scala. E lui, una volta che il faldone è protetto dall'incuria dei colleghi, non ha nessun attaccamento particolare a metterlo in cima allo scaffale. Ecco, questa... E come si può trovare? No, perché detta così è semplice, però questa soluzione, come la si può trovare tra due colleghi che non si parlano? Allora, innanzitutto bisogna parlarsi, perché trovare soluzioni senza parlarsi è estremamente difficile. L'altra cosa è che bisogna chiedere, e per chiedere bisogna dare legittimità all'altro. Io non chiedo a una persona che non legittimo. Se io invece mi metto nell'ottica che l'altro ha diritto ad avere una sua posizione, ad avere delle esigenze e gliele vado a chiedere, sperimenterò che in realtà non ha voglia d'altro che di dirmene le sue esigenze. E che normalmente non siamo abituati ad ascoltare le esigenze legittime dell'altro e siamo estremamente concentrati invece a portare avanti con forza, con violenza, con aggressività, le nostre ragioni. Perché lo facciamo? Perché abbiamo paura che i nostri fondamenti non vengano rispettati. Non li esprimiamo, li portiamo avanti con delle ragioni estremamente aggressive e non li mettiamo, diciamo, in gioco. Allora, facciamo il primo passo. Legittimiamo l'altro e diamogli la possibilità di esprimere il fondamento. Perché desideri fare questo? Come posso venirti incontro, posto che, magari a quel punto vado oltre la mia vergogna, ho paura di usare le scale? È in questa apertura, è in questo legittimare l'altro che io posso trovare un punto d'incontro.